Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi Chiara Ferragni punta ancora tutto sul vedo non vedo. Da Parigi il look lascia senza parole, è divina. Imprenditrice, influencer, moglie, mamma e donna nel pieno della sua bellezza Da tempo ormai Chiara Ferragni ha dato ai suoi look una svolta hot, scegliendo outfit che mostrano, in parte, le forme, vedo non vedo che attirano gli occhi ma senza eccessi La moglie di Fedez dapprima sempre abbastanza contenuta nelle sue scelte di stile, ha virato verso look decisamente più provocanti E così anche per la Milano Fashion Week Chiara ha sfoggiato le sue forme delicate ma molto sensuali Sensuale ma senza censura, la strada scelta dall'influencer.Come non incappare nella censura di Instagram? Basta non cadere nel volgare Chiara Ferragni sa bene cosa significa Prova ne è stato il suo scatto piccante nel quale si è mostrata solo con un pantalone super attillato di pelle e nulla sopra Completamente nuda, l'influencer ha coperto il seno con i suoi lunghi capelli biondi mostrandosi con un bassoio in mano pieno di sandwich Questa solo una delle ultime proposte. Terminati gli impegni delle sfilate milanesi, Chiara è volata a Parigi per fare il bis Anche qui non si è contenuta e ha scelto un look molto intrigante Chiara Ferragni ed il look parigino, impossibile non guardare, video Sceglie le trasparenze Chiara Ferragni per la prima delle sfilate della Parigi Fashion Week dove è ospite Come è solita fare ultimamente su TikTok ha lanciato il suo fit check Mostra tutto nei dettagli e l'influencer dal make-up realizzato con la sua palette, agli abiti Quello che attira colpo d'occhio è il vedo non vedo molto molto ammiccante Non si può non guardare cercando di scrutare tra i ricami qualcosa di più A parte la minigomma piena di paellettes, il resto del corpo è tempestato di un nero trasparente che ammicca Per Chiara body di intimissimi e collante falsedone È un vero sogno ed i fan non possono che ammirare rimanendo senza parole Per tutti c'è sempre un comune denominatore. Mai volgare. Le dicono tutti in coro La Ferragni può anche osare ed esagerare a volte ma non spocia mai oltre e questo la rende la regina assoluta dalla moda Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video